ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi ritorno con un nuovo video tutorial di alcuni cuori che possono essere utilizzati sia come pandorina come potete vedere diciamo che il cerchio lo permette abbastanza spesso quindi il cuore sta ben saldo però facendo bene la lavorazione resta rigido infatti non si muove proprio per nulla vedete e poi questi cuori possono essere utilizzati in diversi modi ecco come orecchini pendenti come ciondolo per collana per porta chiavi insomma a voi la scelta allora adesso vi lascio ai materiali che sono pochi e credo che tutti li li abbiate in casa perché si tratta di rocaimi yuki 15 0 rocaimi yuki 11 0 rocaimi yuki 8 0 6 super duo contate per cuore poi 3 cipollotti 4 per 3 millimetri poi se vi piacciono i cuori in vista del san valentino nell'info box vi lascerò la playlist di tutti i cuori che ho realizzato poi utilizzo l'ago extra fine della miyuki è il filo miyuki allora come prima cosa dobbiamo inserire sul nostro ago tutti e tre i cipollotti alternati a rocai 8 0 quindi un cipollotto una rocai 8 0 un altro cipollotto un'altra rocai 8 0 un cipollotto ed un'altra rocai 8 0 quindi cipollotto rocai 8 0 cipollotto rocai 8 0 poi portiamo giù entriamo in tutti e in tutta questa sequenza facciamo dei nodini poi ripassiamo bene tagliamo il filo in eccesso ecco qui abbiamo chiuso il lavoro c'è da dire poi che questi cuori si fanno davvero in cinque minuti e se si prende la mano poi si impiega anche meno tempo sto uscendo da un cipollotto qualsiasi a questo punto prendo una rocai 11 0 un super duo una rocai 11 una super 2 e un'altra rocai 11 0 quindi 3 rocai 11 alternata a 2 super duo poi entriamo se stiamo uscendo da qui da questo cipollotto se stiamo uscendo da qui da questo cipollotto entriamo nello stesso cipollotto ma dall'altro lato poi proseguiamo entriamo nella rocai 8 0 nel cipollotto usciti da quest'altro cipollotto dobbiamo inserire la stessa sequenza una rocai 11 una super duo una rocai 11 una super duo e un'altra rocai 11 la sequenza è questa entriamo nel cipollotto ma dall'altro lato poi entriamo nella rocai 8 0 fino ad uscire da questo cipollotto e dobbiamo inserire la stessa sequenza per l'ultima volta una rocai 11 una super duo una rocai 11 una super duo e una rocai 11 e ci inseriamo dall'altro lato ma nello stesso cipollotto poi senza proseguire stringiamo bene entro senza inserire nulla nella 11 esco dal foro basso della super duo tiriamo bene in modo che posso uscire dal foro alto di questa super duo e così iniziamo a formare il cuore prendiamo 5 rocai 11 ecco qua allora 5 rocai 11 e mi inserisco nel foro alto della super duo successiva poi a questo punto prendo una rocai 11 una 80 e una rocai 11 quindi rocai 11 80 rocai 11 e qui tra le due super duo inseriamo appunto questa sequenza arrivati a questo punto prendiamo due rocai 11 quindi due rocai 11 e ci inseriamo nella prima 11 0 qui e poi per agganciarci alla 80 andiamo a prendere una rocai 11 quindi una rocai 15 0 ci inseriamo nella 80 soltanto facciamo attenzione ecco e qui dobbiamo inserire un'altra rocai 15 0 quindi rocai 15 0 ci andiamo ad inserire nella rocai 11 e poi come abbiamo fatto qui per agganciarci al foro alto della super duo dobbiamo prendere due rocai 11 ecco qui due rocai 11 e ci inseriamo nel foro alto di questa super duo qui dobbiamo fare come da quest'altro lato quindi prendere una 11 1 8 0 e una 11 quindi 11 8 0 11 e ci inseriamo nel foro alto dell'altra super duo poi qui andiamo a prendere come abbiamo fatto ovviamente dall'altro lato le 5 rocai 11 0 1 2 3 4 e 5 quindi 5 rocai 11 e poi qui diciamo ci prepariamo per la punta quindi vado a prendere due rocai 15 3 rocai 11 e poi 2 rocai 15 quindi la sequenza è questa 2 rocai 15 3 rocai 11 e 2 rocai 15 e ci andiamo ad inserire qui nel foro alto poi entriamo anche nelle rocai successive perché dobbiamo portarci ad uscire perché dobbiamo portarci ad uscire entriamo nella super duo adesso vi faccio vedere dobbiamo uscire soltanto dalla 11 0 e dalla 8 0 dobbiamo entrare nella 11 e uscire dalla 8 0 non dobbiamo entrare anche ecco dobbiamo uscire da qui una volta che siamo usciti da questa 8 0 prendiamo sul nostro ago 6 rocai 15 0 4 5 e 6 ecco qua 6 rocai 15 0 e mi inserisco qui in queste rocai intanto dobbiamo passare in tutte ok quindi 6 rocai poi entro in tutte quelle senza inserire nulla poi entriamo qui in queste rocai sempre senza inserire nulla entriamo qui ecco poi una volta usciti da qui prendiamo altre 6 rocai 15 0 quindi 1 2 3 4 5 e 6 quindi 6 rocai 15 poi regolatevi voi magari se vi rendete conto che ne bastano 5 ne potete inserire 5 io preferisco inserirne 6 perché poi magari resta un po di spazio quindi vado sul sicuro e mi inserisco salto la 11 0 mi inserisco qui in queste rocai 8 0 e 11 0 adesso vado a creare meglio la punta quindi mi inserisco qui in queste rocai 8 0 entro nella super duo poi qui mi porto ad uscire da queste 3 rocai 8 2 15 0 e la 11 0 a questo punto salto questa rocai 11 di mezzo diciamo e mi inserisco senza inserire nulla direttamente nelle altre rocai così devo fare in modo che il filo faccia la punta mi aiuto magari anche con le dita in questo modo e poi già che ci sono vi faccio vedere la solina se volete farne un ciondolo degli orecchini insomma quello che volete voi esco dalla no bisogna uscire dalla quarta quindi devo rientrare qui ecco uscire dalla quarta quindi rocai queste sono le 15 0 poi prendo 4 rocai 15 questo ovviamente io lo faccio in maniera speculare quindi se lo fate da questo lato ecco allora mi inserisco sono 4 rocai mi inserisco in queste due rocai e poi se lo volete fare in maniera speculare vi basterà fare la solina all'altro orecchino dall'altro lato mi regolate voi adesso ecco vado a sciogliere la solina perché appunto vado più del lavoro e poi vado ad inserirlo nel cerchio a questo punto prendo il cerchio il cuore pandorina che chiuso e mi inserisco qui ecco inserisco nella base al cerchio e il lavoro è terminato io mi auguro che questo cuore vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate io vi saluto e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti